Mirko benvenuto a Reggio Emilia sei pronto per questa esperienza? si hai scelto tu? no è una cosa che volevo fare te l'hanno regalata e vediamo come va benissimo andiamo a divertirci allora mi ha detto che Matti ti ha già spiegato tutto tutto chiaro va bene poi se hai dei dubbi chiedi non è un problema quindi tra pochissimo noi saliamo andiamo a divertirci goditi questo lancio divertiti più che puoi ricordati sempre di guardarmi mi raccomando e sorridimi sorridi più che puoi o se vuoi urlare vabbè non è un problema dai dai ti lascio che finisce di imbragarti e ci vediamo tra poco ciao 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 c'è Rocco Ok, tutto bene, perfetto, ora tiriamo il comando di sinistra verso il basso, andiamo a sinistra, il resto, un po' di sinistra, andiamo a un po' di dentro. Vedete che concure il lancio? Sì, è la mia ragazza. Mirko, com'è andata? Bene, sono contenta, lo vuoi rifare, bravo, rifallo dal caravan, che l'altro aereo è anche per noi è più diverso, sì, è più largo e più divertente, ci divertiamo di più. Bene, bene, bene dai, bravo, bravo. Grazie a tutti.